Tutta la fascia tirrenica deve ritrovarsi in un unico GAL, è quanto afferma il Partito Democratico di Barcellona Pozzo di Gotto al termine della riunione tenutasi ieri. La presa di posizione giunge dopo la notizia della pubblicazione del bando PSR sulla programmazione dei gruppi di aggregazione locale per la gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea. In questi giorni tante sono state le idee, le proposte e i progetti per la realizzazione dei GAL sul territorio e si è anche paventata la possibile divisione dei territori della fascia tirrenica tra i comuni capofila, ovvero Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Il Partito Democratico esprime quindi posizione contraria a questa evenienza, invitando i due sindaci a trovare le giuste ragioni e le dovute motivazioni per rimanere uniti nello stesso GAL, poiché una frammentazione determinerebbe, sempre secondo il PD barcellonese, un indebolimento delle politiche di sviluppo locale con inevitabili vantaggi in favore di altri territori. Inoltre, in conclusione della nota inviata agli organi di informazione, la sezione locale del Partito Democratico informa che ha auspica di poter organizzare un incontro in città con l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici al fine di illustrare il nuovo PSR.